Tensione alle stelle e nervi tesi, ieri sera nel corso della puntata del Grande Fratello VIP. Katia Ricciarelli è stata una delle protagoniste della serata per i suoi accesi scontri, in particolare quello con Lulu Selassie, dove ha indirizzato alla principessa insulti e offese che non sono passate inosservate agli occhi dei telespettatori, più attenti e curiosi. Stamattina Lulu Selassie si è alzata determinata come non mai nell'allontanarsi proprio da Katia Ricciarelli. E in cucina, durante l'ora di pranzo, nasce un'altra accesa discussione, in ciò volano parole durissime tra le due. Inizia Katia Ricciarelli provoca Lulu, commentando il suo comportamento di ieri sera. Da qua parte un'enorme discussione in cui volano delle parole grosse, ecco il video. Voi da che parte stat? Non trovate che Katia Ricciarelli ultimamente stia creando troppe liti e discussione dentro la casa del grande?